Mio padre non era un brigatista, ma una vittima delle Brigate Rosse. Con queste parole Roberta Peci ha spiegato che il suo papà, quello che non ha mai conosciuto perché è stato assassinato quando lei era ancora in fieri nella pancia della mamma, merita una via che lo ricordi. Affermazione con la quale si è trovato d'accordo anche il sindaco di San Benedetto, Giovanni Gaspari, nel corso di un faccia a faccia mattutino fra i due, al quale ha preso parte anche il futuro marito di Roberta. Di intitolare via Enrico Boito, di cambiare nome a via Enrico Boito in via Roberto Peci, si tratta e si trattava di individuare una data che fosse in qualche modo evocativa, anche simbolicamente evocativa di questo cambiamento. O si sceglieva il 10 giugno del 2011, che è il trentennale del rapimento, oppure l'altra data possibile è il 9 maggio, appunto come giornata nazionale delle vittime del terrorismo. Pace fatta fra i due? Beh, il bisticcio mediatico non c'era mai stato. Roberta, ospite della trasmissione a prescindere di Rai 3, condotta da Michele Mirabella, aveva semplicemente chiesto a Gaspari di sbrigarsi perché il suo mandato è in scadenza e chissà se la prossima amministrazione sarebbe stata disponibile ad intitolare una strada a suo padre. Il 9 maggio via Boito diventerà via Roberto Peci. Non una data a caso, perché il 9 maggio del 78 morì Aldo Moro, ma morì anche il giovane martire della guerra alla mafia, Peppino Impastato. Soddisfatta Roberta che tiene molto affinché il ricordo di suo padre sia scevro da qualunque appartenenza politica, specie alle BR. Fu ucciso solo perché fratello di Patrizio, noto militante che era uscito dalle Brigate Rosse. E penso che adesso sia giusto intitolare la via sia perché siamo arrivati ad un punto in cui c'è una conoscenza più ampia della storia di quel momento ed anche perché sia giusto fare in modo che anche le giovani generazioni prendano coscienza di quello che è accaduto a San Benedetto e di quello che è successo in quegli anni e che questa via sia un po' anche un monito di quello che è accaduto a mio padre, insomma, semplicemente questo. Grazie.